Cappella della Rovere, dove ci sono affresche del Pinturicchio. Santa Maria del Popolo Roma. Com'è meravigliosa l'attività del Pinturicchio. Attorno ci sono delle grattesche. Ora guardiamo i particolari. L'asino e il buo in questa vita. Giuseppe è addormentato. Gesù è sopra un fascio di grano, simbolo dell'Eucaristia. Bellissimo! Abbiamo un ponte e un fiume fino al mare. C'è anche San Giro, l'uomo che prega in ginocchio. I re-magi che stanno venendo su. I pastori sulla roccia, bellissimo questo sfondo. La capanna con l'edera. E poi abbiamo anche l'angelo che è la stella cometa. La stella cometa che ha portato i re-magi è un angelo. In alto sul cielo, bellissimo. È un'opera bellissima, delle più belle opere della Natività. E sopra abbiamo il ciclo di San Girolamo. San Girolamo che benedisce un leone che nel deserto qui fa penitenza. E qui che insegna San Girolamo è questo cielo stellato proprio del Quattrocento, guardate. Cielo stellato sul Docobalto. Qui abbiamo le tombe dei Cardinali. Guardate che meraviglia anche queste finestre, che sono originate del fine Quattrocento. Tutte le prime grottesche troviamo in questa cappella della Rovere, che ci sono i Cardinali della Rovere. Ecco il pavimento originale, guardate che meraviglia, questa cappella della Rovere.